Ho scelto questa immagine per rappresentare la mia visione del mondo che verrà. È una foto che fa parte di una serie ispirata alle vecchie copertine dei libri di fantascienza e credo che il mondo che avremo davanti fino a poco tempo fa ce lo saremmo potuti immaginare solo in una di queste storie e quindi credo che si adatta a rappresentare quello che credo sarà il futuro. Grazie